Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Ballando con le stelle, la puntata di ieri sabato 18 novembre è stata a dir poco movimentata. Al centro la lite tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. Dopo l'esibizione di Teo Selvaggia aveva commentato, mi fai tenerezza. E' decisa la risposta di Mammucari, mi fai tenerezza non me lo dici a me, lo dici a un amico tuo, ma a me non me lo dici perché io mi sono messo in gioco e ho fatto cose che tu non faresti mai. E' deprimente che tu stia parlando da mezz'ora e non dica niente. E Selvaggia Lucarelli, Millie, io ho voglia di dire delle cose, ma mi sembra che ci sia un'aria troppo pesante. Pensavo che si potesse giocare con un comico, ma evidentemente può giocare solo lui e noi no. Smettila di interrompere. Lo show di Teo non è finito, ieri ha avuto modo di chiarire anche con Antonio Caprarica. Con Millie Carlucci che ha voluto dire la sua. Ho visto titoli che parlano di rissa, ma da sempre i titoli sono fatti per colpire la fantasia. Ristabiliamo la realtà dei fatti. Dietro alla parola rissa c'è un comportamento che, se fosse vero, non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno. Una discussione con toni accesi. I toni accesi nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose di questo genere. Nei limiti di una dialettica civile. Civili, secondo il pubblico, non sono stati i giudici di Ballando con Rosanna Lambertucci. Scrive una fan, sono dei caffoni. Come si permettono di chiamarla Lambertuccia? Che caffoni? E quella mummia della Carlucci che non dice niente? E ancora, la signora Lambertucci ce la mette tutta. E una donna educata e di classe. Brava! Rosanna che ha detto addio al programma. Nella quinta puntata Rosanna Lambertucci e Simone Casula sono stati eliminati. I concorrenti si sono sfidati allo spareggio televoto con le coppie di Carlotta Mantovan e Moreno Porco e Antonio Caprarica e Maria Ermaccova.